Buongiorno, oggi vorremmo presentarvi un caffè aromatizzato con baccelli di vaniglia e cannella. Ma prima di iniziare, se non l'avete ancora già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e se il video vi piace, perché no, mettete un bel like. Andiamo! Ho preparato 15 grammi di caffè tostato per chiaro per l'estrazione filtro e ci vado a inserire una punta di baccelli di vaniglia e una punta di cannella. A questo punto vado a inserire la miscela nello strumento chiamato aeropress. Una volta inserito il caffè, livello il pannello e procedo all'infusione. Vado a versare circa 200 grammi d'acqua a una temperatura di circa 94 gradi. Una volta inseriti i 200 grammi d'acqua, allora dovrò attendere due minuti circa di infusione. Per questa bevanda ho utilizzato la nostra monorigine della fazenda Francisco Molina in Costa Rica, nella nostra linea, pura origine. Una volta che sono passati i due minuti, allora sono pronto per l'estrazione. Do un'altra lieve miscelata. Vado a inserire lo stantuffo nell'aeropress e sono pronto per l'estrazione. A questo punto il caffè è pronto per essere servito. Come sempre per chi fosse interessato ad altri contenuti può seguirci sui nostri canali social. Ma per il momento vi auguro buone feste!